Oggi siamo qui con Fernando Galletti. Fernando Galletti è di Paganica, personaggio conosciutissimo ed è oggi il presidente dell'amministrazione dell'uso civico di Paganica e San Gregorio. Perché siamo qui? Siamo qui perché alle nostre spalle c'è questa grande struttura che vedete, che è una struttura che sta qui da 20 anni e fu una sorta di carta di scambio con la volontà della loro amministrazione comunale, stiamo parlando del 1998-99, di realizzare qui a Paganica una discarica a Monte Manicola. Quella discarica non si fece anche per la reazione dei paganichesi di cui Fernando fu uno dei protagonisti. Perché vogliamo parlare oggi di questo centro polifunzionale? Sia perché da 20 anni non è stato utilizzato e sia perché attualmente l'attuale amministrazione comunale vorrebbe abbatterlo e farci al suo posto un polo scolastico. Fernando, raccontaci un po' qual è la situazione. La situazione è gravissima perché noi demograficamente Paganica cresce paurosamente. Un anno fa stavamo a 9.200 residenti, oggi siamo sicuramente arrivati a 10.000. Non abbiamo un centro civico per potersi riunire, non abbiamo niente. È una cosa paurosa quella che viviamo noi paganichesi. Oggi noi all'insaputa sappiamo che questo dovrebbe essere abbattuto per farci un polo scolastico. A che punto è la ricostruzione di Paganica? Oggi a 10 anni di distanza dal terremoto possiamo dire che la ricostruzione degli aggregati del centro storico di Paganica siamo una percentuale che rispetto ai 140 aggregati che comprendono il centro storico siamo partiti con i lavori a circa 20-22 aggregati. Questi sono i numeri che ci possono dire le percentuali in cui la ricostruzione del centro storico di Paganica è partita. Siamo chiaramente, come abbiamo detto, a 10 anni dal terremoto, quindi su questi 20-25 aggregati i lavori sono partiti. Su qualcuno stiamo in fase di completamento. Su uno o due uno è proprio questo che dà sulla piazza dove noi speravamo che fossero i primi a partire. Però abbiamo avuto un iter della ricostruzione che è quello che conosciamo tutti. Oggi possiamo dire che con questi numeri e questi percentuali la nostra preoccupazione è quella di vedere una ricostruzione molto a macchia di leopardo con alcuni aggregati che stiamo completando che però abbiamo dei seri problemi per quanto riguarda i sottoservizi e gli allacci fognari e delle utenze. Grazie.